Chi avrà le responsabilità direttive e chi terrà i cordoni della borsa? Questi sono i primissimi quesiti che Cortina e Milano dovranno apporsi nelle prossime settimane con gli occhi puntati alle Olimpiadi Invernali del 2026. Oltre alla definizione del gruppo dirigente che dovrà occuparsi degli aspetti organizzativi in linea con obiettivi e richieste del Comitato Olimpico Internazionale, infatti occorrerà affrontare anche l'aspetto dell'accesso alle risorse economiche. Infatti se finora il CONI ha avuto la gestione diretta delle somme a disposizione, la riforma dello sport proposta dal governo gliela toglierebbe. Così l'assenza del sottosegretario Giancarlo Giorgette e l'ultimo confronto romano tra CONI, comuni e regioni è diventata motivo di attrito. Un polverone che non ha senso la replica del diretto interessato all'attacco del presidente del CONI, Giovanni Malagò. Nel frattempo si è deciso di affidare a un consulente l'individuazione delle figure migliori da soldare per comporre il gruppo dirigente che porterà l'Italia verso le Olimpiadi. In modi e tempi diversi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il governatore del Veneto Luca Zaia hanno formulato lo stesso concetto. Se dalla città meneghina è arrivato il monito Niente amici degli amici, in Laguna il motto è diventato Niente elefanti della politica.